Siamo in un posto sottoterra dove si mangia una mancina Dovete vedere dove cavolo siamo Siamo a Madrid, nel quartiere Malasagna con Marta che sta facendo questo video e bene a riconoscerlo Ma fai vedere dove sono i tuoi piedi Si vede? Si vede che c'è tutta la sabbia Bene Siamo in un posto sottoterra Dove si mangia un patè di pernice e questo Ancora non mi sono azzardato perché è troppo per me troppo raffinato Si mangia in una posizione di merda Cioè almeno se ho visto dei cuscini però... Questa è un po' di sabbia che è andata verso Però guardate che posizione C'è qui Poi dobbiamo fare questo video in freddo perché tra un po' cambia Ci rincontra Cambia il colore delle luci e non si vede più niente Però vedi queste sono le cose di Madrid Fai vedere bene Si vede la sabbia Si Si vede come mangia la gente Fai vedere questa parenza che non è possibile In questa posizione Bene Con questo Io mi mangio un po' di pane Aspettando che arrivi il mio primo di Scuso Brito Mi ricordo Questa è un po' di pane Questa è un po' di pane Questa è un po' di pane La campagna, lì Si vedi al canale Si viene un po' di pane Quindi quando si rigkeiten Franzbra E adesso sono tutti i miei Grazie a tutti.